Musica Sono Emanuele Carpanzano, sono il direttore del Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI dove oltre a condurre al Dipartimento mi occupo anche di attività di formazione e ricerca. Questo corso di formazione continua tratta il tema della sostenibilità nel settore del tessile e della moda. Per sostenibilità si intende la sostenibilità economica ma anche quella ambientale e sociale di un prodotto e quindi il fatto di poter garantire che il prodotto è stato sviluppato nel rispetto dell'ambiente e della società come dei lavoratori. Le competenze oggi richieste per poter certificare la sostenibilità dei propri processi e dei propri prodotti sono competenze estremamente innovative e all'avanguardia che abbiamo avuto modo di sviluppare attraverso diversi progetti di ricerca in ambito sia federale che internazionale. Queste competenze sviluppate nella ricerca le abbiamo poi portate nel mondo della formazione continua attraverso questo percorso formativo. Il percorso ha avuto una prima parte sviluppata più con le aziende in Ticino che aveva già dato origine a un CAS precedente e poi si è articolato a livello federale scavalcando quindi le Alpi e andando anche a nord in collaborazione con Swiss Textiles e STF all'interno della quale abbiamo poi sviluppato questa offerta formativa in lingua tedesca e i corsi si tengono sia in Zurigo che in Ticino. Stiamo già pianificando ulteriori attività comuni e stiamo anche sviluppando un'offerta formativa a livello master sempre di formazione continua con Ticino Moda e in questo caso sarà un master in inglese tenuto prioritariamente in Ticino e dedicato prioritariamente alle aziende moda presenti in Ticino.